La formazione professionale costituisce una risposta importante alla sfida di offrire ai nostri ragazzi opportunità di inserimento lavorativo coerenti alle loro aspirazioni e al fabbisogno dell'economia di un territorio. ENAIP, il più importante ente di servizi per la formazione e il lavoro in Italia, è presente in provincia di Sondrio con la sede di Morvegno. Qui sono attivi i corsi per estetista della durata di tre anni e per riparatore meccanico auto di tre anni con l'opzione del quarto. Vogliamo dare ai ragazzi, ci dice il direttore Giovanni Colombo, competenze flessibili e aggiornate, rispondenti a ciò che le aziende richiedono. Gli sbocchi occupazionali dell'anno 2017-18 e 18-19 portano a un 92% di sbocco occupazionale dopo la qualifica o dopo il diploma. Quindi riteniamo che riusciamo in qualche modo a preparare questi ragazzi a un livello abbastanza alto. Quest'anno poi con il quarto anno nell'ambito della meccanica, quindi tutto il mondo dell'elettronica, dei motori elettrici, abbiamo anche modificato elevando i contenuti dal punto di vista professionale. Il numero dei ragazzi che scelgono ENAIP Morvegno e che provengono da un bacino territoriale ampio compreso tra Media e Bassa Valtellina, Val Chiavenna e Alto Lario è in continuo aumento. A conferma della crescente attrattività di questa scuola. Tra formazione professionale e corsi apprendisti, dai 100 allievi dell'anno 2017-2018 si è passati ai 170 di quest'anno. La previsione per l'anno 2019-2020 è di 230 iscritti. Il prossimo anno infatti vedrà ENAIP Morvegno arricchire la propria offerta formativa. Dal settembre di quest'anno partirà il nuovo corso sulla bioedilizia, quindi nell'ambito della lavorazione del legno, anche se legata alla costruzione dell'edilizia, quindi carpenteria in legno, serramentistica, ma soprattutto un po' quello che il mondo del lavoro, le novità ci stanno cercando. Quindi aziende che operano nella costruzione di case con un'attenzione alla riduzione dei consumi energetici, all'utilizzo di materiali bio-eco compatibili. Un corso della durata di tre anni con un quarto anno di completamento che mi auguro di poter fare in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, il PFP Valtellina, con il quale c'è già un buon rapporto di collaborazione anche in altri ambiti, ma in questo si vorrebbe costruire con loro un quarto e perché no, spero, un quinto anno di specializzazione in questo ambito. Il corso nel settore della carpenteria del legno e bioedilizia, per il quale verrà realizzato a fianco di quello di meccanica un apposito nuovo laboratorio, costituisce una novità assoluta in Lombardia, secondo in Italia solo ad analoga esperienza avviata da Enaip in Trentino. È un corso che è nato un po' anche su richiesta delle associazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato, con le aziende del territorio che continuano a chiedere nuova mano d'opera, o perlomeno mano d'opera, anche in questo ambito con un livello di specializzazione più alta. Non è più, io dico sempre scherzando, mastro geppetto, martello e scalpello, ma oggi un buon falegname deve sapere anche usare il CAD, sapere usare l'informatica, la tecnologia la sta facendo da padroni in questo ambito e quindi cercheremo di dare una innovazione anche sotto questo aspetto. Direttore, dietro queste scelte c'è una visione di un sistema della formazione professionale sul territorio pienamente in sintonia con il fabbisogno che il territorio richiede? Sì, da dati che abbiamo come Enaip, Lombardia, nei prossimi anni in regione ci sarà una fortissima necessità di mano d'opera nel mondo del manifatturiero. In collaborazione con il PFP che è il nostro amico centro di formazione professionale con cui, ripeto, abbiamo dei rapporti di collaborazione, si vorrebbe costituire un polo formativo nell'ambito professionale univoco. La Valtellina, sapete benissimo, ha un'estensione territoriale molto particolare, stretta, lunga con la zona della Val Chiavenna, la valle di Livigno, di Bormio, eccetera, eccetera. Quindi pensare a una formazione professionale che tenga conto di tutte queste territorialità ma anche di queste richieste del territorio. Pensiamo alla zona che c'è da San Pietro di Berbenno fino a Colico, quest'area fortemente industrializzata. la zona della bassa Val Chiavenna, Gordona, Samolaco, eccetera, è dove le richieste di mano d'opera nell'ambito della professionalità, nel mondo della professione del manifatturiero è sempre più premente. Cercheremo, ci speriamo, speriamo di dargli una risposta. In chiusura, direttore, un messaggio alle famiglie. La formazione professionale vale? La formazione professionale vale sia dal punto di vista culturale, noi abbiamo, nei nostri corsi sono previsti anche delle attività culturali, vale perché dà futuro ai vostri ragazzi. Questo è il messaggio che posso dare alle famiglie. Spesso e volentieri la formazione professionale è vista come la formazione di serie B. Io ritengo che non sia così. È la formazione di serie A. È quella formazione che permetterà all'Italia, io aggiungo, non soltanto alla regione, alla Valtellina, di guardare al futuro in una maniera un pochettino più serena rispetto agli scenari economici che magari non lo sono in questo momento. Grazie a tutti.